Buongiorno a tutti e benvenuti al canale The Office of Cards. Oggi voglio parlarvi di negoziazione e non farò una masterclass sulla negoziazione ma voglio semplicemente darvi un paio di trucchetti per affrontare le negoziazioni con le altre persone. Negoziazione vuol dire una discussione in cui cerchi di portarti a casa qualcosa che vuol dire un oggetto, magari una negoziazione per comprare qualcosa oppure anche una negoziazione su voglio avere la sera libera per stare con i miei amici la negoziazione con i vostri figli per dire se fai questo succede quello le negoziazioni fanno parte della nostra vita perché chiaramente nelle nostre vite noi viviamo in società, viviamo con altre persone attorno le altre persone non sempre vogliono fare quello che noi vorremmo loro facessero e quindi entriamo in una negoziazione. Due trucchetti, il primo è non focalizzarsi sulle differenze ma focalizzarsi sui punti in comune. Quando voi entrate in una discussione con qualcuno non dovete focalizzarvi sulla vostra posizione che ovviamente è antitetica a quella dell'altra persona voi pensate A e l'altra persona pensa B. No no no, bisogna cercare il common ground, bisogna cercare quali sono i punti che abbiamo in comune e questo vuol dire uscire da quella discussione sul punto specifico e cercare di elevarla cercare di ragionare sui principi a monte. Per esempio nelle discussioni con mia moglie che devo dire non sono frequenti per fortuna ma perché non lo sono? Perché spesso e volentieri ci ritroviamo a discutere su cose stupide capendo però e ricordandoci sempre l'uno con l'altra che quello che vogliamo è ciascuno la felicità dell'altro, una famiglia felice, dei figli sereni eccetera eccetera e quindi in quale modo la discussione che stiamo facendo ci permette di raggiungere quell'obiettivo? Zero, zero modo. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire non focalizzarsi sul punto su cui abbiamo una divergenza perché la divergenza c'è ma focalizzarci invece sulle cose che abbiamo in comune e su quelle costruire l'argomentazione che noi abbiamo. Il secondo trick è come fare a costruire queste argomentazioni con domande non accusatorie quindi al di là del tono di voce, al di là del linguaggio del corpo che ovviamente devono essere di apertura devono essere di ascolto, dovete avere una voce bassa perché tutto questo cade se cominciate a gridare se cominciate a sbattere i pugni sul tavolo o anche cose peggiori di questa quindi linguaggio del corpo aperto, tono di voce assolutamente tranquillo e pacato desiderio genuino di ascoltare quello che l'altra persona ha da dire e quelle che io chiamo how questions, non why questions. Cosa vuol dire? Vuol dire se tu chiedi a una persona perché questa persona si sente giudicata perché deve giustificare una cosa che nella sua testa è palese quindi se tu gli chiedi ma perché pensi questo? è come puntare il dito e dire colpa tua sei pirla, ok? Cioè perché tu pensi questo? Io no, quindi perché tu pensi questo? Non aiuta questa domanda, aiuta poco invece le domande how, quindi dire scusa ma fammi capire come funziona il tuo pensiero? Mi spieghi la logica del tuo pensiero? Ecco che è cambiato completamente perché il perché è accusatorio mentre il mi spieghi è io scendo dal piedistallo, ti ci metto sul piedistallo e ti chiedo gentilmente di spiegarmi una cosa, ok? Così la capisco, ok? Chiaramente qui è facile cadere nel terreno derogatorio del te lo chiedo ti faccio sentire un pirla, te lo chiedo come se mi spiegassi una cosa a un bambino di tre anni no, state attenti a body language, state attenti al tono voice ma al punto di fondo la sostanza della domanda, il lessico della domanda vi aiuta molto perché invece di dire perché e non capisci niente perché è evidente il senso della domanda e il tono, no? Io mi metto su e ti chiedo perché come il professore all'università qui invece dico no, sono io lo studente e ti chiedo mi spieghi come mai tu ritieni che questa sia una buona idea, ok? È completamente diversa la percezione che l'altra persona ha di questa cosa, ok? Questo vi permette, se ascoltate poi con genuino interesse e continuate a fare questo tipo di domande vi permette di risalire la corrente e arrivare al punto che potenzialmente avete in comune con questa persona e poi da lì andate a ricostruire un'argomentazione sulla quale non ci sia divergenza e quindi riuscite a discutere del punto di cui volevate discutere senza dover litigare, senza animosità, ok? Qual è la killer question che vi voglio lasciare alla fine di questo video? La killer question è nel momento in cui non riuscite a raggiungere la convergenza nel momento in cui rimane comunque una divergenza quindi voi avete provato a seguire filologico ma c'è un punto di fondo che non riuscite a smontare e quindi uno continua a pensare A e l'altro continua a pensare B la domanda killer è cosa dovrebbe accadere per farti cambiare idea? Ok? Questa domanda è una figata perché impone all'altra persona in maniera conscia o meno di dover pensare che potrebbe aver torto perché la domanda è genuina cosa dovrebbe succedere affinché tu cambiassi idea su questo punto? è una cosa nella quale io mi devo proiettare in un mondo in cui ho torto e devo capire quali sono i pillar di questo mondo in cui ho torto su questo punto specifico e devo dirteli, ok? Quindi magari deve dire ok probabilmente non la penserei così se e lì comincia magari poi dipende dal caso specifico di cui stiamo parlando se stiamo parlando di un punto, non so, scientifico ah se io vedessi questa cosa mi convincerei che hai ragione tu che la terra è piatta non lo so se io vedessi che l'acqua cade nel nulla mi convincerei che la terra è piatta ok ora quello magari non lo posso dimostrare ho fatto un esempio stupido ma ci sono tante cose nel day to day dove se voi mettete l'altra persona psicologicamente in maniera inconscia in un mondo in cui deve puntare il dito contro aspetti sui quali sta fondando il suo credo e sono gli aspetti che voi potete andare a cambiare ecco che improvvisamente avete una base di interlocuzione che vi dà modo di entrare dove si può entrare poi non sempre ce la si fa però al punto d'entrata se ne esiste uno è quello lì ok io spero che questo video vi sia stato utile per evitare un sacco di discussioni a lavoro con gli amici del calcetto con vostra moglie e marito eccetera eccetera perché veramente da un lato non ha senso discutere abbiamo fatto anche un video lo metto qui dove dico litigare non serve a niente ok però in generale dico che è facile dire criticare non serve a niente spiegami come fare ad evitarlo ecco questi trucchettini che vi ho condiviso quindi cercare il common ground fare domande how cercando di mettere l'altra persona in una posizione di superiorità dove mi deve spiegare perché pensa quello che pensa e farmi seguire la sua logica e poi fare io la domanda che dice che cosa dovrebbe succedere affinché tu cambiassi idea su questo punto specifico sono le tre cose che nel mio quotidiano veramente un sacco di differenza tanto è vero che spesso volentieri le persone che mi conoscono e mi dico ma tu Davide ti arrabbi mai no io mi scaldo sì perché sono uno appassionato mi piace veramente tanto fare le cose ma è un calore quasi agonistico ok ma veramente non mi arrabbio mai perché uso questo metodo e vado sempre a capire dove è il punto dove c'è disaccordo una volta capito lavoro su quello e poi scendo sulla conclusione che tipicamente è quella che aiuta entrambi non me di nuovo ve l'ho fatto l'altro video ve lo metto qui non conta avere ragione conta vincere a me non interessa avere ragione a me non interessa avere il merito di niente a me interessa essere una squadra che vince ok e quindi faccio quello che devo per far vincere la mia squadra spero che questo video vi sia stato utile vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video